Nel primo turno playoff il campo basso deve arrendersi al San Nicolò che spadroneggia Selvapiana e vince 3 a 0 con grande merito. Rimane una stagione chiusa bene al quarto posto dai Rosso Blu ma è chiaro che la prima dei playoff persa così male ha il sapore di un'autentica umiliazione. Si gioca di fronte a circa mille spettatori sparuto il gruppetto di tifosi provenienti dalla provincia di Teramo. Nel prologo la società Rosso Blu consegna una targa ricordo ad Antonio Minadeo per il quale si consuma l'addio al calcio giocato. Il capitano è in abiti civili perché squalificato. Al dodicesimo cross di Valim al centro c'è spazio per gli abboni che di fatto circa l'intervento un minuto più tardi. Angolo di Valim si fionda in body ma manca l'impatto con la sfera. La partita non vive di grossi ritmi è chiaro il tema con il San Nicolò che chiude gli spazi e riparte. Al ventitresimo micidiale la penetrazione di Mozzoni che mette al centro gli abboni a tanto tempo per prendere la mira e battere con comodità Maggi. La difesa di casa fa acqua lecito approfittarne per gli abruzzesi al ventottesimo vicinissimi al raddoppio con un diagonale di chiacchiarelli dopo dribbling secco su Nicolai. Negativo il primo tempo di marca Rosso Blu che non riesce a creare pericoli alla porta del San Nicolò. Uno dei più mobili dei locali risulta essere Todino. Dal trentunesimo fuori Scudieri in campo di Gioacchino cambio dettato da motivi fisici. Al trentottesimo ecco la risposta Rosso Blu da Fusaro a Vitone che mette in mezzo e Petronio rischia l'autogol. Il San Nicolò rischia soltanto con i suoi giocatori. Deve passare infatti appena un minuto per l'altro cross di Vitone e Iaboni che per un metro non insacca nella sua porta. Nel finale di tempo al quarantatresimo Fazio scaia un tiro da distanza considerevole ma Lupinetti para. Un minuto più tardi non colpisce con la dovuta forza Bartolini a qualche metro da Maggi. Nell'intervallo Vullo estromette Fusaro per far entrare Pignataro. Il giocatore sostituito non era al top della forma. Il San Nicolò capisce di poter fare male. Ha un campo basso scombinato. All'undicesimo fa quello che vuole in area chiacchiarelli. Mette in mezzo per Iaboni che va a botta sicura ma trova Pignataro sulla linea di porta. Incredibile occasione molto simile al gol del vantaggio abruzzese. La vena ospite cresce al dodicesimo da angolo. Testa di Mbodi. Palo clamoroso colpisce Stivaletta ed è fazio intercettare sulla linea di porta. Con richiesta vana di gol da parte del San Nicolò. C'è solo la squadra di Epifani ancora vicina al secondo gol al quattordicesimo con Bartolini che tocca da due passi. Maggi respinge grazie anche al suo istinto. Il campo basso non riesce a fare un'azione degna di nota mentre Iaboni al diciassettesimo poco prima di lasciare il campo a Moretti ci prova in diagonale senza troppa precisione. Vullo aveva anche stromesso Nicolai per inserire Lazzarini la mossa della terza punta in campo. Campobasso assente dal campo. Questa punizione sconclusionata di Todino del ventottesimo rappresenta bene la gara dei Rossoblu. Qualcuno tra i Campobassani è vittima di crampi e davvero esaurisce la benzina nel proprio serbatoio. Stessa cosa succede agli abruzzesi tant'è che Valim deve lasciare il campo a Gabrielli. Al trentanovesimo scontro in area proprio da Gabrielli e di Gioacchino il direttore di gara Mima che si è spostato soltanto il pallone. Nel finale regna il caos più assoluto. Siamo al novantesimo quando si accasciano al suolo sia a pani che Bartolini infortunati. Proprio davanti alla panchina di Vullo. Il San Nicolò gioca e rovescia il fronte con Stivaletta che dribbla Maggi e viene atterrato. È calcio di rigore ed espulsione per Maggi. Cambi esauriti per Vullo e in porta va di Gioacchino. Calcio di rigore ripetuto due volte ma che nella seconda delle due vale il raddoppio per il San Nicolò. Al novantacinquesimo lo stesso Chiacchiarelli riesce a fare tutto il campo prima del pallonetto vincente che vale il trissi in favore degli abruzzesi. Un risultato fuori da ogni immaginazione alla vigila della partita. Per il San Nicolò il sogno a occhi aperti dei playoff prosegue a San Benedetto del Tronto mercoledì prossimo. Il Campobasso chiede scusa per la sconfitta e si appresta a programmare il futuro.